Oltre un miliardo di persone nel mondo non ha accesso ad acqua potabile. Un bambino su cinque muore per sete o per malattie legate al consumo di acqua non si cura. Il 40% della popolazione globale convive con problemi di scarsa disponibilità d'acqua che, secondo l'ONU, sono alla base di oltre 50 conflitti, di cui 37 armati. Per mettere al centro del dibattito internazionale questi e altri problemi legati al loro blu, nel 1992 le Nazioni Unite hanno istituito la giornata mondiale dell'acqua, che cade il 22 marzo. Ad aderire e a concentrarsi sul dibattito pure Federconsumatori Sicilia, condividendo pienamente lo slogan di questo anno, diamo valore all'acqua. L'acqua deve essere considerata un bene prezioso in quanto è fondamentale per la nostra esistenza. Una risorsa così preziosa non può essere considerata merce, né può essere quotata in borsa un'azienda privata che ne gestisce l'erogazione e i cittadini perché rischio fortissimo e che l'acqua diventi oggetto di speculazione finanziaria. Difatti, il valore dell'acqua è molto più alto del suo prezzo. Nel 2010, i movimenti che si sono mobilitati per l'acqua pubblica, dopo aver raccolto in Sicilia 90.000 firme per i referendum nazionali contro la privatizzazione dell'acqua, ne hanno raccolto altre 35.000 per proporre una legge regionale di iniziativa popolare per la gestione pubblica dell'acqua, con l'appoggio anche di 135 consigli comunali e di una provincia. La legge regionale, approvata nell'agosto del 2015, la numero 19, ha recepito buona parte dei contenuti della gestione del servizio idrico denominato sovrambito, che oggi è gestito da Sicilia Acque, azienda il cui capitale è al 75% in mano alla multinazionale francese Veolia e per il restante 25% della regione siciliana. Sicilia Acqua vende acqua all'ingrosso ad un costo eccessivo ai gestori dei nuovi ambiti territoriali provinciali. Feder Consumatori Sicilia ha inviato specifiche richieste in tutto il territorio regionale per avviare il confronto con i tantissimi gestori, che non hanno aggiornato le proprie carte di qualità dei servizi per i problemi di fatturazione e i chiarimenti in merito ad allacciamenti e bonus idrico. Sono tante le raccomandazioni che proveranno a dare oggi anche ai più piccoli per preservare questo dono prezioso. Piccoli e utili consigli che possono fare la differenza, come ad esempio chiudere il rubinetto mentre ci si insaponi i capelli. Per lavare frutta e verdura usiamo una bacinella e non l'acqua corrente e con l'acqua di lavaggio raccolta innaffiamo le piante. Assicurati di chiudere bene i rubinetti, soprattutto durante la notte o se ci si assenta per lunghi periodi. Non aprire i rubinetti alla massima potenza. Fai funzionare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Non gettare nel water cotone, bastoncini per l'igiene delle orecchie o altri oggetti per non rendere più difficile la depurazione dell'acqua.